Sono loro il numero uno dei dilettanti a 11, i senegalesi della Libertas Diaz. Una bella stagione, non è stato facile ma alla fine l'abbiamo fatto. 56 punti abbiamo fatto, abbiamo perso due partite, 5 paretti. La nostra squadra esiste da tre anni. Abbiamo fatto il primo anno in Serie B, che siamo stati anche campioni. Il secondo anno in Serie A, in Girona A voglio dire, siamo rimasti terzi. Secondo posto per il Villongo Barcorallo e terzo posto per la Real Santi, che aveva cominciato il campionato con 5 sconfitte. Sono classificati, contenti, noi siamo una squadra nuova, è il terzo anno che ci siamo, primo anno nel gruppo A. Peccato per l'eliminazione nel Toffio Coppa Bergamo, ci riproviamo l'anno prossimo. Premio disciplina ai dilettanti a 11 dell'Oratorio Gorlago.